Andando in campagna per motivi non solo ecologici ma anche di natura in senso lato ecco voglio dire non sono rimasti colpiti dal canto dell'usignolo, questo splendido essere e sono rimasti colpiti per i suoi acuti, per la melodia, per la poeticità del suo canto ecco mettete insieme tutto questo, sposatelo con una musica elettronica e può sembrare abbastanza facile realizzare in tutto in uno studio di registrazione ma è molto molto difficile suonarlo così bene dal vivo come lo sanno fare i Mattia Basar Grazie 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 Oceanica, subacuea, energia Biblica, odissea Il dado è stato tratto, ma è scappato via Sulla scia Sanni d'estate bruciare, onda lunare Sopra il castello Riccarte Sanna di mare Sulla scia 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 di mare Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione